Ma quanto è creativa la creatività? Questa non è una domanda stupida, non è un gioco di parole. La creatività è un concetto così sfuggevole che chiedendo a due persone diverse, ma tu, da 1 a 10, quanto sei creativo? Uno ti potrebbe dire 4, l'altro 8, nell'inconsapevolezza che il 4 di uno potrebbe essere l'8 dell'altro e l'8 dell'altro il 4 dell'uno. Questo rende la creatività, un superpotere per me, qualcosa di estremamente sfuggevole, precario e poco inquadrabile. Però il mio lavoro, la mia quotidianità mi porta spesso ad interrogarmi su questo aspetto della vita e quello che ho scoperto dal mio misero percorso di vita è che molto spesso la creatività non è un'ispirazione divina o men che meno artistica, ha quasi sempre dei presupposti più analitici, razionali, di studio e di metodo. Detto così, sembra proprio che io voglia in qualche modo screditare questo superpotere, come l'ho chiamato. Però, 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 no. Semplicemente no, non è così. Anzi, permettimi di riportarti due esempi che mi consentano di farti capire in modo chiaro ed immediato quello che intendo. Siamo all'incirca il 31 agosto 2018. Dominos Pizza, questa catena di franchising, appunto, che vende pizze, se no si sarebbe chiamata, non so, Dominos Bike, se avesse venduto biciclette, lancia un contest. Stai attento a questi pazzi scatenati che cosa hanno detto. Diamo a tutte le persone che si vanno a tatuare il logo di Dominos Pizza, diamo una fornitura a vita di 100 pizze l'anno. Credo che, stiamo in Russia, credo che questo sia stato un contest russo. In meno di un mese i vertici di Dominos Pizza hanno dovuto fermare questo contest perché è stato calcolato un baratro, una perdita di 7 milioni 300 mila dollari. Cioè, non so se hai capito, rimanda indietro il V. Ah, te lo ripeto, 7 milioni 300 mila dollari, una perdita di 7 milioni 300 mila dollari per questo contest creativo. Pensa se invece della Russia ci andavamo a delocalizzare in Italia. La perdita sarebbe stata tre volte tanto. Ora, ti riporto l'esempio di un ragazzotto. Dustin Law, o lui, è questo ragazzo. Premetto, ho reperito questa notizia online, ma su testate estere. Mi sembra slovena, tedesca. Non ho capito se sia una fake news. Credo di no. Ad ogni modo, qualora dovesse essere una fake news, puoi sostituire questo aneddoto con tanti aneddoti in cui la creatività ha condotto la persona creativa al successo. Ad ogni modo, questo ragazzotto voleva vendere casa 800 mila dollari valore di mercato, non riusciva a venderla. Si è messo lì a pensare, un po' come i vertici di Dominos Pizza, sti grandi laureati in creatività. mi ha detto, quasi quasi faccio una lotteria, valore del gioco, valore del ticket, valore del biglietto, un dollaro. Chiunque, per mezzo del ticket vincente, entri in possesso di casa, infatti aveva messo la casa in palio, viene da me, gli tiro le chiavi ed è sua. Oh, questo è raccorto 2 milioni di dollari. Diciamo 1 milione 700 mila, 1 milione 800 mila dollari tolte le tasse. Ora, cosa ha fatto la differenza tra queste due realtà, tra questi due pensieri creativi? Non tanto creatività, tra questi due pensieri creativi. Non so, io non c'ero il 31 agosto 2018 nella hall di Dominos Pizza, però ritengo vagamente, ho questa immagine del responsabile marketing che dice ragazzi, c'ho un'ideona, facciamo tatuare il logo di Dominos Pizza perché tanto, pure se dobbiamo dare forniture di pizza gratuite, sai quanto risparmiamo di pubblicità? In realtà ci ha preso una stangata sui denti perché fondamentalmente gli utenti si sono andati a tatuare il logo sui piedi, sulla caviglia, in posti ben nascosti. Quindi 7 milioni 300 mila dollari con un rientro pubblicitario pari a zero. Ecco, non è stata una grande idea. Invece il nostro amico Dustin ha avuto quest'idea vincente, studiandola bene perché l'ha basata su tre aspetti importanti. Il primo, la risolutezza. C'è una precisa visione di quello che doveva fare. Devo vendere casa. Studio. Può aver studiato, per esempio, di questo non ne sono sicuro, ma andiamo avanti la testa ragazzi, o aver studiato la condizione del mercato immobiliare della sua zona, oppure anche le statistiche sul gioco, anche se credo che 2 milioni di partecipanti, poi la cosa sia andata ben oltre i confini del suo, non so da dove provenga, credo America, non so. 3. Coraggio. Perché d'altronde mettere in palio una casa a un dollaro, immaginiamo 100 partecipanti, beh, stai dando via casa per 100 dollari. Lordi, lordi. Quindi, risolutezza, studio e coraggio hanno reso l'idea di Daston qualcosa di vincente. La capacità di ideare delle soluzioni per mezzo di questi ragionamenti flessibili, che portano a piani elaborati, ma comunque originali e trasversali, è frutto di studio e metodica. Studio e metodica, studio e metodica. Che poi, come ho già detto in altri video, perché mi occupo di creatività da sempre, non si sviluppano solo per mezzo dello studio e della metodica, ma anche di uno stile di vita sano, del movimento, del mangiare bene, del rispettare i cicli di vita e così via. Quanto è creativo il pensiero creativo? Quando è stato esplicitato e non ha fallito il suo scopo? Tanto. Tantissimo. Anche se parte da presupposti meno creativi, ma decisamente più logici. In tutto questo viene rispettata la natura duale dell'essere umano, la sua parte razionale e materiale, la sua parte intuitiva e spirituale.